la relazione all'interno del team. Lo faremo appoggiandoci a uno dei volumi della linea editoriale di Scuola di Palo Alto che è Big Potential, un libro di Sean Eccor che parla proprio del raggiungere i risultati, la felicità e il benessere aiutando gli altri a esprimere il proprio potenziale. Marco, intanto volevo darti il benvenuto e poi volevo chiederti, visto la tua lunga esperienza in diversi ambiti aziendali, perché ti è capitato di incontrare in realtà molto differenti nel corso degli anni, ti chiedo, avendo conosciuto un panorama così variegato, quali sono secondo te le problematiche più comuni che hai riscontrato riguardo proprio le relazioni di team? Allora, questa è la domanda delle domande, nel senso che per rispondere a questa domanda ci vorrebbero tra i 3, i 4 e i 5 anni, perché evidentemente il problema della gestione dei team, della creazione dei team e delle difficoltà che ci sono all'interno dei team e delle aziende è un problema enorme, che per certi aspetti parte da molto lontano. Poi magari lo accenniamo. Allora, questo è un problema che riguarda tutte le aziende, le aziende hanno sempre questa difficoltà tecnica di far lavorare le persone insieme, nella nostra storia abbiamo storie tra le più simpatiche e disparate, l'apoteosi credo l'abbiamo raggiunta con un'azienda alcuni anni fa, dove avevamo tentato il tentabile, nel senso per far lavorare insieme un team che non ne voleva sapere, dove era una sequenza di individualisti, di pezzi unici, di star, decidiamo come vogliamo chiamarle, a un certo punto abbiamo fatto una specie di cattiveria, non so come definirla quasi, nel senso di forzatura. Allora, prima gli abbiamo fatto fare un bel 360, in realtà era un 180, nel senso dove ognuno, 180 è un test, una struttura di assessment che ti chiede cosa pensi delle altre persone e chiede alle altre persone cosa pensano di te. Poi si chiede al capo, la versione corretta sarebbe poi chiedere anche a quelli sotto, ma in questo caso abbiamo chiesto solo ai componenti del team cosa pensavano degli altri componenti del team. Il passo successivo è stato portarli a fare un team building, perché come sai il team lo costruisci, lo rafforzi attraverso una serie di tematiche. Il gruppo era molto hard, mi ricordo ancora che sono arrivati, era tipo dicembre, quindi un bello freddo, in montagna, anche se non nevicava ancora, e alcuni sono arrivati in moto, sotto un'acquazione devastante, per la serie proprio per fatti capire quanto erano hard tutti. Gli abbiamo fatto fare cose particolari, nel senso che gli abbiamo fatto fare cose tipo, non so come dirlo, gli abbiamo fatti sparare addosso, quello che è il painting, per cui li abbiamo armati e abbiamo detto facciamoli sfogare, proprio così si sfogano e si sparano addosso. Si sono sparati addosso, devo dire, con delle armi che tra virgolette erano sovradimensionate, nel senso che il pazzo furioso che ci aveva accompagnato in questa avventura, aveva caricato queste armi a pressione, quindi sono ad aria compressa, le aveva caricate, normalmente si caricano a un joule, che è l'unità di misura per capire quanto esce forte il colpo, e lui le aveva caricate a 18 joule, quindi aveva potenziale. Quindi quando ti arrivava questa fucilata addosso, ti faceva veramente male, nel senso chiedevi basta non mi sparare più, mentre normalmente quando vai a fare paintball ti spari addosso qualcuno e anche se sei completamente macchiato di giallo, di rosso, quello che è, sostieni di non essere stato colpito, perché non hai sentito niente. Dopo che gli abbiamo fatti sparare addosso in montagna, quindi sali, scendi, cor, gente che rischiava l'infarto, però si sparavano, non mollavano. Le abbiamo presi e siamo andati, eravamo in Svizzera, e siamo andati su per una funivia, una funivia particolarissima, l'avevamo cercata con cura. È un'auto funivia, nel senso tu sali e non c'è nessun manovratore, tu guidi da solo e a una certa ora chiude, siccome è in autonomia, non può essere gestita come se nulla fosse. Quindi siamo saliti, dopodiché abbiamo fatto un paio d'ore di cammino, un'ora e mezza di cammino per arrivare a questo rifugio e quando siamo stati certi che la funivia aveva chiuso e quindi era impossibile scappare da lì, abbiamo iniziato la riunione in cui abbiamo fatto vedere al team i loro 180, i loro 360, quindi abbiamo chiarito che cosa pensavano gli altri di loro. Ovviamente l'abbiamo fatto dopo, che abbiamo raccontato, l'importanza del gruppo, l'abbiamo rifilato, non è che li abbiamo buttati lì, adesso arrangiateli. Dopo che quando li abbiamo sfiniti, l'obiettivo era li sfiniamo, così quando sono sfiniti non possono più farci niente, sono sfiniti, non possono reagire, arriverà tutta questa informazione, arriveranno e loro non potranno reagire. Ecco, dopo che appena abbiamo fatto vedere cosa pensavano l'uno degli altri, senza nomi, è tutto anonimo evidentemente, è scattata la caccia alle streghe. Chi ha detto questo di me? E lì è stato il momento peggiore. Da lì in poi, una volta toccato il fondo, tutto è migliorato e alla fine quello che era un team veramente difficile, non dico che sono diventati il team ideale, non dico che sono diventati, però dopo averli veramente sfiniti, hanno iniziato a capire quanto era importante, quanto era utile, perché era fondamentale lavorare in gruppo rispetto, in gruppo, lavorare insieme e creare delle sinergie insieme rispetto ad altri. Noi facciamo sempre una metafora bellissima che era quella delle oche. Sai che le oche, quando migrano, viaggiano a B, quindi fanno questo percorso e a turno si alternano, perché se sta sempre davanti una e con questo trucchetto per cui ognuna taglia l'aria rispetto all'altra riescono a guadagnare qualcosa come il 70% di chilometraggio, per cui riescono a fare meno fatica al 70%. E noi dicevamo sempre, ragazzi, se ci riescono le oche potrete riuscirci anche voi a fare meno fatica lavorando in team. Era una... quando li paragoni così funziona sempre, nel senso almeno per un qualche... però devo dire che quando riesci a far funzionare questa cosa il salto di qualità è importante. Quindi diciamo, mi sembra di capire che poi indipendentemente da quali sono i problemi, poi tendenzialmente una soluzione può esserci sempre, insomma. È un po' questo il... Sai che noi, essendo concentrati sul tema della positività, poi in qualche modo ci concentriamo più sulle soluzioni che non sul problema, perché fissarti sul problema in alcuni casi rischia di blindarlo, di incancrenirlo, in qualche modo di renderlo statico. Poi passi a creare quei team che sono dei rapporti quasi di coppia, per cui tu dieci anni fa mi hai detto, quei rinfacciamenti di... perché hai in qualche modo blindato un punto negativo, mentre l'obiettivo è blindare punti positivi. Certo. Senti, ma a proposito di questo, no? Del lavorare in team, che tu dici bisogna capire le sinergie del lavorare in team, insomma, delle potenzialità, no? Del lavorare in team. Però ti chiedo, si parla tanto, no? Di questo lavorare in team, anche noi abbiamo tutta una serie di... un ventaglio di corsi anche dedicato, ma ti chiedo, secondo te è sempre veramente necessario per tutte le figure, per tutte le aziende, per tutte le strutture? non so. Allora, nello studio sul team abbiamo noi e tanti altri, nel senso che non è un problema solo nostro, abbiamo tutti cercato di capire se è sempre necessario. Come sempre la metafora più semplice, la metafora più comprensibile è quella dello sport. Nello sport la squadra funziona se lavora in team. Noi, tra l'altro, siamo abbastanza dei fanatici, da questo punto di vista, della pallavolo. Perché? Perché nella pallavolo non c'è possibilità che tu possa vincere se non lavori in team, col tuo gruppo, quindi... mentre altri sport diventa meno comprensibile. Sfortunatamente lo sport di riferimento da noi è il calcio e quindi sul calcio si ricreano quelle che sono dinamiche forse più reali, più tradizionali che ci sono anche all'interno dell'azienda. Che succede? Che noi lavoriamo in una squadra di calcio, ci sono tutta una serie di figure che sono ottime, lavorano insieme, riescono a creare sinergie, riescono ad attivarsi. Però c'è sempre una figura particolare, che è la star, la figura eccezionale. Allora, in alcuni casi, non so, ce ne sono alcuni stranoti, nel senso una Juventus senza Ronaldo è un'altra squadra, nel senso evidentemente... Allora, la star può fare due cose in alcuni casi. La star può lavorare in team, oppure essere un battitore libero, perché comunque lui a un certo punto risolve i problemi, è quello che ha la soluzione in tasca, che quando proprio non si riesce a trovare la soluzione, lui trova la soluzione. Non so, nel Milan c'è Ibrahimović, non mi sembra uno da team tanto, tanto per capirci, però Cribio segna e in qualche modo stimola la squadra a funzionare meglio. Ora, è evidente che però il problema di queste star è che finché segnano va tutto bene, ma appena non segni ti togli di torno, nel senso... Poi magari il tema del team in realtà si allaccia al tema dello sviluppo personale, nel senso che cosa posso arrivare a fare da solo e che cosa posso arrivare a fare con gli altri. La frase classica, la citazione classica è se sono arrivato così lontano, se ho visto così lontano è perché mi sono salito sulle spalle dei giganti, nel senso è evidente che da solo puoi arrivare solo fino a un certo punto. Se vuoi fare altro devi fare un salto di qualità e il salto di qualità per l'essere umano è avere a che fare con gli altri, è lavorare con gli altri. Adesso parlavi di queste star che dici, è evidente che quindi sono un po' insomma in qualche maniera forse anche individualisti, c'è uno spirito di squadra ma poi prevale anche un certo individualismo. Ti chiedo se i personaggi per esempio che hai citato, secondo te potrebbero essere identificati come dei leader di questi team? No, sono concetti diversi, nel senso che il team leader, nello studio del team ci sono tutta una serie di figure ben definite, il team leader è ben chiaro, il team leader è colui che guida, spinge, motiva, trascina, stimola il gruppo a funzionare meglio, stimola il team, la squadra a ottenere risultati che altrimenti non avrebbero ottenuto. i membri del team sono altre figure, nel senso che in una fase iniziale i membri del team hanno delle dinamiche un po' loro. La star è proprio come se fosse un oggetto separato, è un oggetto che è nel team ma non è nel team, nel senso è una... però è la soluzione in alcuni casi, per cui non bisogna fare il team a ogni costo, bisogna fare il team sapendo che ci sono delle variabili. poi bisogna sempre ricordare che le aziende lavorano con quello che hanno, non è che puoi dire, io adesso voglio 11, Ronaldo, tutti in campo, no? Lavori con quello che hai, quindi con i pro e contro, con le qualità, e poi potresti essere sorpreso. Poi dopo le team hanno delle fasi, per cui una classica situazione di dieci persone che hanno sempre fatto un lavoro e che l'hanno fatto bene, tutto tranquillo, improvvisamente gli dici, beh adesso sai cosa, facciamo una cosa bella, facciamo il team, che è una cosa interessante. Ci sono delle storie bellissime su aziende che hanno cercato di fare team e che hanno avuto dei cali di produttività intorno al 30, 40, 50%, nel senso che hanno avuto dei tracolli pazzeschi, nel senso che se continuano a lavorare in team è difficile. Allora, è una specie di momento in cui si switcha, si cambia, finché non riesce a fare quel cambiamento, lavorare in team per certi aspetti è quasi più problematico e complicato che non prima, allora meglio lasciare le cose come stanno, dicono alcuni, invece no, perché oggi viviamo in un'epoca così competitiva che se non lavoriamo insieme agli altri, se non facciamo cose insieme agli altri, non potremmo mai ottenere certi risultati, ma senza speranza come azienda. Certo, la fase, quella che viene chiamata la fase di storming, la fase di confusione iniziale, è una fase che fa crollare il 50% dei team che iniziano a lavorare insieme, poi vedono questa fase di storming, si spaventano e improvvisamente dicono no, no, rimettiamo tutto come prima perché qua non ne voglio sapere. E torniamo nuovamente al tema della fase della zona di comfort, nel senso che sul team si allaccia veramente lo scibile del management, lo scibile della gestione delle persone. in una fase iniziale dicono no, torniamo tutti come prima perché questa cosa di lavorare con gli altri a me mi stressa, io voglio fare le mie cosine da solo, io non voglio star lì a lavorare con gli altri, voi mi chiedete quello che devo fare, io lo faccio e basta, non chiedetemi di più, perché lavorare in team è chiedermi di più, io devo relazionarmi. Le ultime scoperte neuroscientifiche che fanno capire chiaramente perché il nostro cervello è un cervello così evoluto, lo fanno capire proprio negli aspetti legati per esempio alla parte geriatrica, del perché è così complicato per le persone anziane mantenere un cervello vivace, perché la cosa più complicata che fa il nostro cervello, la cosa più difficile che fa il nostro cervello è relazionarsi con le altre persone, è una cosa che occupa quasi la totalità del cervello, il nostro cervello è perennemente dedicato a capire se dico questo a lui che cosa succede, se dico questo a lei che cosa succede, se lo vengono a sapere tra lui e lei che cosa succede, se esco, se parlo con lei, se parlo con lui, e il nostro cervello è in perenne analisi, quando inizia in qualche modo a far crollare queste relazioni, a farle cadere, e il nostro cervello entra in uno stato di apatia per cui si impigrisce e il problema rimane sempre lo stesso, il nostro cervello ama non lavorare, non vuole fare fatica, quindi il nostro cervello è fantastico, ma se può evitare di far fatica è più contento, e quindi relazionarsi con le altre persone tradotto è faticoso, è impegnativo, è complicato, vuoi mettere che me ne sto sul mio computerino, tu sei lì, io sono qui, e non ci diamo fastidio, nel senso che se io faccio cadere qualcosa, tu non dici, va bene, ma non fa rumore, invece ognuno sarà stata nella sua stanzina, è bello così. A proposito di questo Marco, a proposito di questo, dicevi no, allora è bello, nel senso mettiamo il cervello nella condizione di fare meno fatica possibile, lavoriamo da soli o con il mio computer, è un po' quello che volente o dolente ci è successo quest'anno, un po' a tutti, nel senso che abbiamo preso baracche e burattini, ci siamo chiusi in casa, abbiamo iniziato a lavorare da lì per lo meno chi poteva. Ne abbiamo parlato già diverse volte sotto diversi ambiti, ti chiedo, secondo te, visto che stiamo parlando di team, un buon leader di un team, che cosa potrebbe, che cosa dovrebbe fare, diciamo, per aiutare il suo team in questo 2020, a portare avanti comunque tutto quello di cui noi parliamo, la scienza dell'Eppiness e quant'altro, anche in questo momento difficile, e soprattutto non avendo diciamo face to face il suo team per così tanto tempo, che consigli sentiresti di dare? Allora, passo uno, la domanda mi fa cadere nella disperazione, nel senso che è complicato, è veramente complicato, nel senso che la tecnologia è una gran cosa, e aiuta a mantenere le relazioni, ma si parte da un presupposto importante, che è la relazione era già attiva, ed era già buona, e quindi ci appoggiamo a una relazione esistente. L'altro aspetto sarebbe quello di avere delle riunioni, o degli incontri liberi, il problema è che molte organizzazioni hanno fissato dei protocolli ben definiti, su come noi ci troviamo, ci vediamo, ci sentiamo, e che tipo di piattaforma utilizziamo, senza nascondersi dietro un dito, tutti noi sappiamo che Zoom è vietata in una marea di aziende, per cui Zoom è molto semplice, molto veloce, e vietata. In altre aziende c'è l'obbligo di utilizzare esclusivamente una piattaforma rispetto a un'altra, per cui chi deve usare esclusivamente, che ne so, Google Meet, o chi deve usare esclusivamente quella di Microsoft Teams, che tra l'altro nasce per fare team, ma non nasce per fare conference, quindi diventa complicato, e poi ce ne sono tante altre, da WeSchool ha tante altre ancora. Però il meccanismo qual è? Che se io devo appoggiarmi a una piattaforma esistente, mi diventa complicato e poco naturale, poco spontaneo, a meno che non abbia pianificato l'incontro. E come dire, siamo amici, ma ci vediamo a orari prestabiliti. Sì, la buona relazione è fatta anche di cose spontanee, naturali, nel senso che il consiglio che darei è semplicemente quello per chi può, è se siete in smart working, probabilmente siete a casa, se siete a casa, probabilmente vi potete fare un caffè, quando vi fate un caffè, come ve lo fate in ufficio, potete farlo insieme agli altri, alle 11, ci beviamo un caffè, facciamo due chiacchiere, parliamo di tutto, meno che di lavoro, nel senso, ma semplicemente facciamo due chiacchiere. Poi sappiamo tutti che non sarà così, perché a un certo punto qualcuno, già che siamo qui, scusa, volevo dire, c'è sempre quello che si infila e fa la domanda, però è quello che succede alla macchinetta del caffè, del tipo, però hai sentito questa cosa, l'hai sentita, non l'hai sentita, cosa ne pensi? In un momento informale alcune cose si raccontano. L'altro aspetto, io ho visto, molti sono riusciti a creare dei team, anche a distanza, che si mantengono motivati, con dei trucchi di questo genere, il caffè, l'aperitivo, la chiacchierata. I social oggi ci aiutano, per esempio, a mandare la battuta, mentre una volta in ufficio, uno seduto nella scrivania dietro, faceva la battuta e tutti ridevano, e questo cementava un po' il gruppo, o dava stimoli, oggi la battuta la faccio con un social, mando con, che ne so, con un WhatsApp, per cui sicuramente la cosa che direi, se fate parte di un team, almeno cercare di avere un WhatsApp di team, altrimenti diventa complicato, e sul WhatsApp di team deve essere un WhatsApp non lavorativo, deve essere un WhatsApp anche delle banalità, delle cose semplici, delle sciocchezze che vengono raccontate. I team fissano sempre delle regole, per costruire un buon team ci dovrebbe essere sempre quelle che sono delle ancore motivazionali, cioè dei punti d'appoggio in cui le persone si sentono coinvolte, che può essere una sciocchezza di vario genere, ma ho visto aziende che hanno delle ancore motivazionali importanti, c'è un'azienda che ha un pin della giacca, che è il pin aziendale, è fantastico, ma per avere il pin aziendale tu non ce l'hai solo perché sei dipendente dell'azienda, devi scrivere una lettera di motivazione in cui cerchi di convincere risorse umane o il tuo capo che tu ci tieni a quel pin perché hai un approccio di un certo tipo e quando tu cammini per l'azienda o quando anche solo ti colleghi e tu hai il pin e un altro no, è un messaggio importante, nel senso io credo così tanto nell'azienda che ne vesto i colori, la stessa cosa dovrebbe essere fatta per i team, i team dovrebbero avere degli elementi distintivi che dicono beh io faccio parte di questo team, le squadre di calcio hanno ancore motivazionali di tutti i tipi. Certo, chiaro, quindi cercare un po' diciamo di ricreare. Senti, torniamo invece alla premessa diciamo che ho fatto inizialmente, quindi al nostro Big Potential. Big Potential è appunto un volume edito da palo alto di Sean Ekor che è autore del vantaggio della felicità che vedete alle mie spalle e però appunto in Big Potential si parla proprio anche di team. Ci spieghi diciamo brevemente così giusto per invogliare anche chi ci sta ascoltando alla lettura che qual è diciamo il concetto di base di questo Big Potential. Allora, Sean è un tipo particolare nel senso che Sean Ekor, l'autore, proviene da Hueco. Casualmente io sono stato a Hueco molte volte quindi ho questa memoria fissa sulla città nel senso è una cittadina del Texas tu arrivi a Dallas a Dallas prendi una strada che ci vogliono due ore, due ore e mezza per arrivare a Hueco dove a destra lungo questa strada vedrai il nulla e a sinistra lungo questa strada vedrai il nulla. Quindi sono quei 250 chilometri da Dallas di nulla nulla proprio di niente non c'è niente quando arrivi a Hueco che è una simpatica cittadina è una città una città importante è una città proprio da far west proprio come se Texas profondo infatti gli unici monumenti che trovi sono alle vacche alle mucche cose importanti quindi lui che arriva da questo luogo un po' chiuso ha scoperto che alcune cose funzionano meglio e alcune cose funzionano peggio però è importante sapere la provenienza perché poi lo capisci meglio per come ci è arrivato allora la prima cosa che ha scoperto molto semplicemente ce la siamo già detta è la felicità non è una conseguenza del successo ma è un precursore del successo nel senso tu avrai successo se avrai un approccio positivo in qualche modo un approccio di benessere di gradevolezza perché le cose funzioneranno meglio dopo che ha lavorato su questo concetto per molti anni che ha elaborato che ha raccontato gli è venuto in mente che c'era ancora qualcosa che non andava fino in fondo e qui ha scritto Big Potential nel senso che il suo salto di qualità lo ha portato a dire sapete cosa questa logica della felicità è come se fosse un iceberg la punta esposta è la felicità ma la parte sotto che è la parte importante la parte grossa dell'iceberg è questo concetto che poi viene espresso all'interno del libro del Big Potential nel senso per poter esprimere il mio potenziale io ho bisogno che le altre persone mi aiutino ho bisogno che le altre persone mi vengano incontro che le altre persone vogliano fare team con me vogliano fare gruppo con me all'interno del libro ci sono tutta una serie di racconti che ti aiutano o di metafora che ti aiutano a comprendere molto velocemente alcune sono veramente belle 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 nel senso ce n'è una sui guerrieri masai che quando si incontrano i guerrieri masai non chiedono come stai ma si chiedono come stanno i bambini anche a uno che non ha figli cioè anche se non hai figli io ti chiedo come stanno i bambini perché è come chiedere come stanno gli altri intorno a te come stanno le persone che sono intorno a te perché se le persone che sono intorno a te stanno bene tu stai bene altrimenti questa cosa non funziona altrimenti il fatto che tu stia bene ma tutti gli altri soffrono c'è qualcosa di sbagliato c'è qualcosa di profondamente sbagliato che non porterà nessun benessere nessun vantaggio ecco tutta questa parte che lui racconta all'interno del libro devo dire che l'ho trovata eccezionale capisco che il libro di riferimento di Sean continua a rimanere in vantaggio della felicità perché è più è il primo scritto è il best seller ma devo dire che ha fatto un salto di qualità in questo libro spettacolare nel senso e non credo sia casuale che questo libro sia nato dopo che è diventato papà non credo sia casuale dici che c'è stata un'influenza sì 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 c'è stata un'influenza del insomma del suo diventare padre con l'aprirsi in qualche maniera in questo libro sì nel preoccuparsi il bello tu dietro hai anche educare i bambini alla felicità che è il link a cui io tengo molto il tema è proprio questo quando ti inizi a preoccupare così tanto del benessere di qualcun altro da scollinare rispetto ad alcune tue esigenze e scopri che questa cosa genera benessere in te nel senso e quindi come faccio a far esprimere il potenziale di mio figlio potrebbe essere semplicemente come faccio a far esprimere il potenziale delle persone che lavorano con me io racconto sempre che educare i bambini alla felicità non è un libro per gestire i bambini ma è un libro per gestire le persone nel senso che alla fine della fiera se le persone che prendi in considerazione che sono quelle che lavorano con te le consideri dei bambini e tu vuoi la loro felicità vuoi il loro benessere questa cosa farà star bene anche te è un automatismo e poi l'altro aspetto che ci tengo proprio a dire la cosa più difficile dei team è quello che devono fare le persone che gestiscono team è difendere le persone da se stesse nel senso che ogni tanto le persone fanno delle cose per farsi danno non si capisce per quale motivo ma sfugge e allora il buon leader dovrebbe aiutare le persone a difendersi da se stesse a difendersi e allora Grazie.